prontà? eh pronto può essere Roccodoria signo e palla palla si ma avete lasciato voi come messaggio prima? si avete lasciato un messaggio io in segreteria e telefono no? vi ho disturbato? no ma è un messaggio un po' confusato un po' in confusione io non ho capito niente che dovete fare? forse non so se mi avete capito io sono candidato la regione con il governatore a rotto invece sull'esposta non torna capito che voglio ridere? beh non ho capito niente del messaggio spiegatemi voi che non ho capito niente si si vi spiego io e siccome sono candidato alla regione con questa regione volessi invitare e fare un catering eh a palla palla tra l'orto che cosa? un catering un catering si ne ho cose per mangiare una cosa di mangiare capito che voglio ridere il catering signor il catering cos'è rappresiva non so di preciso io quanto ne vede perché poi nel caso tutti quanti ha capito che voglio ridurre un ghiacciarone c'è pure sempre non so quando si ne presenta a mia ma l'ho detto che avevano tutti quanti e c'è detto portate ai mulieri i figli se volete portare anche un agio insomma portate a chi volete portare però portate insomma e ma io vi stai chiamano se potete organizzare il catering mi serve una piccchiche calabrotelle dice che voi venite calabrotelle ah avete fatto tutto sto giro io non ci ho capito niente le calabrotelle noi l'abbiamo si e nessun giro hai fatto siete nervoso però voi no un zigno nervoso però scusate andate allo stotolo per favore che non sto capendo noi non è che abbiamo tanto tempo voi sei nervoso scusate se vi ho disciuppato fa niente che giuro ma non sono nervoso però se voi mi state facendo pure l'elenco di chi dovete invitare non è che a noi non è che scusate cancellate facetelo conto con i miei studenti ma noi e riprendiamo da capo allora pronta da capo mandiamo un arrocco su una chariette eh allora buonatera sono roccodoria candidata alla regione co governatore vuoi fare un catering nell'orto tra l'orto di mia che mi ha invitato non lo devo dire e mi servisse un po' che calabrotelle una piccola di cioccolata e turroncine pur con il suo tempo con un turroncino tordile la vite cioccolata e turroncine in questo periodo non si possono lavorare scusate eh no il cioccolata poi ce l'ha portata al latte di vandolo scusate si squaglia si scioglie e si era di noi fresco eh avete capito adesso mia palla palla o eh ingegneri e v'ho capito ma in questo periodo cioccolata non si era la volta non lo possiamo lavorare scusate le potete mannare una cosa se c'erano 4 ieri non c'era una cioccolata e potete mannare un frigorifero io vi pago non è che fai mi pago non lo mandiamo non frigorifero io ti pago il frigorifero il frigorifero il frigorifero io ti puoi stare lo sifo di un piccolo cervello non ci va il cioccolato non va nel frigo che si inumidisce e poi diventa bianco non va bene cioccolato no ma dunque per le 4 ariere che non potete dare voi eh dateci un gelato dici patatine dateci un gelato il cioccolato non ce lo possiamo dare in questo periodo. Vabbè lui non mi ha portato i gelati? No, noi abbiamo solo le calabrotelle. Tu non hai capito, ma ritroggiateci un gelato, ritroggiateci le patatine, portatemi sulla vita e allora che vorrei fare? E andateci un gelato ma ve lo procurate voi, mica perché ve lo devo procurare io, non il gelato e le patatine. Ma io con tutti gli impegni che ti ignorano la campagna elettorale, ma non è che appuzzichiamo le 100 mila persone. Tu portiamo un gelato, tu portiamo un torrone, tu portiamo un panico mortatello, come faccio fare il suo lavoro io? Ho capito, ma noi non è che siamo una botiga, scusatemi, io vi posso dare le calabrotelle, poi il resto ve lo avrete voi, gelate, patatine, quale che volete, ma noi di questo non vi possiamo servire. Se per cuore concludiamo che ho pure altri impegni, signor Volito. Sì, sì, siete una russa con lì, no vabbè, no vabbè, non fa niente, e allora i catabrotelle le potete mandare già confezionate in suo piattino, come servite, come avete servite voi. Sì, no io ve le do confezionate, singolarmente le volete. Ah, in suo piattino ce ne vengono tre o quattro, no? Eh vabbè, ma i piattini ve lo dovete procurare da solo però. Ma scusatemi non avete niente voi, ho capito. E non lo capite, scusatemi, tu non lo tieni, la scusatemi la lavora, il frigorifero lo tiene, le piatte non le tieni, e dovete fare voi, avete da chiamare un gelato, allora tu che vieni, che ti hai chiamato a fare io, scusa. Ma non è che noi siamo un catering, noi siamo una distribuzione di prodotto alimentare all'ingrosso. E io all'ingrosso, io sono grosso, perché sei chiamato a bua, capito che bugio io? No, no, non c'entra che siete grosso piccolo, non facciamo servizio catering, vuoi servizi un catering, ve lo dovete andare a cercare, non siamo noi, come ce lo devo dire. Ma scusate, i catabrotelle mi potete mandare? Si, solo quello, punto, chiudete, non aggiungete altro, va bene così, quante ve ne servono? E non lo so, ma no, scusate, ma chi le chiamano, non ti potete buttare a dire di puoi. Se non ve le mangiate, le sotticate... E mangiate, c'è che ti buttiamo, oi, la mia cacca... O me fa la scantonare, oi, se ne domani mangiate, c'è che ti buttiamo, scusa. mi spiego se voi aprite i pacchi che ve li mangiate già da metà e poi quelli non li possiamo restituire ma scusa ma perchè non mi ha pigliato scusa per uno così di quattro soldi usate i pacchi quanti dati alla regione io forse l'ha capito che ne segno io forse l'ha capito che mi ricevo col pacco cominciato usate col pacco cominciato un tubo di salutare ma voi mi volete spottare ma voi siete quelli di radio 105 scusate che mi sembra che mi state prendendo un po' in giro no 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 le panna panna si chiamano quale 105 era 107 cazzicca ma non c'è capito che voglio ridere vabbè sentite mi potete mannare mi potete mannare avete tempo da perdere abbiate pazienza andate a spottare a qualcun altro abbiate pazienza no usate che ti ricco usate che ti ricco no no usate che ti ricco che se non bello scostumato fricato se non bello scostumato e me e le calabrotelle mi chiamo al massimo giorno che io le porto e me le faccio portare vabbè devo chiudere giuro giuro che mi voglio vedere quelli qui vabbè grazie a tutti Grazie.